Dati corretti per agire bene. Abbiamo da recuperare apprendimenti, ma credo che con l'invalsi riusciremo a capire come e dove agire. Parla così ai nostri microfoni Flavia Nardelli Piccoli, deputata del Partito Democratico, già presidente della Commissione Cultura alla Camera. Con la deputata abbiamo parlato, tra l'altro, di perdita di apprendimento e vaccino agli insegnanti. Onorevole, lei è parte della Commissione Cultura, ma soprattutto ha grandi competenze nell'ambito del mondo scolastico. Il DPCM del 6 marzo ha stretto ancora di più sulla scuola e soprattutto ha posto l'accento anche sulle difficoltà logistiche nel fronteggiare la nuova variante del virus che non ha risparmiato i giovanissimi. Secondo lei, quali sono gli errori che non si devono ricommettere in quella che è definita la terza ondata? Noi fino ad ora eravamo riusciti a salvaguardare quelli che erano i bambini dell'infanzia e della primaria e quindi a consentire a 3.000 ragazzi di essere sempre a scuola, in presenza. Questo aveva semplificato la vita delle famiglie, la vita normale di una comunità come la nostra. Adesso questo nuovo virus ci costringe per forza di necessità a intervenire anche in alcune zone del paese su questa fascia, su questo livello di età e naturalmente questo crea tutto lo sconvolgimento evidente in questo. Io sono convinta che nel corso di quest'anno comunque gli insegnanti hanno raffinato anche tutte le loro capacità di intervenire su temi, per cui addirittura anche su temi come la DAD sono convinta che in alcuni casi si possa intervenire anche laddove in altro tempo non sarebbe stato possibile, quindi anche su bambini della primaria. E sono abbastanza fiduciosa quindi che ci possa essere o comunque possa essere garantito quello che noi sappiamo essere essenziale, cioè un'interazione fra il bambino e la scuola e soprattutto non perdersi il bambino. Questo mi pare importantissimo. Resta il problema, come lei può capire, delle famiglie e quindi di una fascia di età in cui c'è bisogno comunque che i bambini siano con qualcuno a casa che li segue e che comunque garantisce una presenza. Onorevole, ha toccato anche la questione dei congedi parentali e del babysitteraggio. Secondo lei è stato fatto abbastanza o bisogna fare qualcos'altro? E aggiungo, si è aperta un'altra questione, un'altra polemica, cioè relativa alla possibilità del ritorno in presenza dei figli di lavoratori di comparti speciali e diciamo alla stregua dei giovani con disabilità o per esigenze speciali. Ecco, questa polemica in realtà non è stata sedata perché poi nelle scuole c'è stata solo una circolare e non effettivamente una legge che garantisca la presenza di questi ragazzi. Come rispondere a tutte le polemiche? Allora, teniamo separate le due cose. Io credo che il discorso dei congedi parentali sia un tema che lei sa era stato affrontato. Deve continuare a essere al nostro ordine del giorno, all'attenzione del Parlamento. Credo anche che noi siamo stati fortunati nella prima fase da questo punto di vista perché, come dicevamo, la scuola ha garantito la presenza a quei bambini che normalmente hanno bisogno di una persona a casa. Perché là dove parliamo di ragazzi della secondaria il problema non si pone o si pone in maniera molto meno stringente. Quindi su questo si continuerà nel lavoro dei congedi parentali. Immagino diventerà, cercheremo di farlo diventare un po' più attento e di garantire una risposta in tempi rapidi per le famiglie che ne hanno bisogno. Diverso è il problema di quelli che sono i lavoratori cosiddetti essenziali. Cioè quelli che sono necessari per mandare avanti la situazione in questo momento di pandemia. Su questo c'era stata una indicazione che tendeva ad allargare quello che era l'intervento che si poteva fare per garantire la presenza ai ragazzi, ai bambini, che ovviamente rispondeva, se vogliamo, a una buona volontà di allargare il campo ma che in questo momento diventa comunque difficilissimo assicurare tenendo insieme quel diritto alla salute e il diritto alla scuola che, voi sapete, rappresentano un equilibrio indispensabile ma, ahimè, precario in questo momento e che va rimesso in discussione continuamente. Devo dirle che dentro il Parlamento c'è un'attenzione continua su questo tema e quindi cercheremo di capire se c'è un modo per intervenire, per accelerare tutto quello che è babysitteraggio, aiuto alle famiglie, eccetera, per affrontare esattamente questo tema. C'è un altro problema che vede protagonisti giovani in questo periodo di pandemia, cioè le ripercussioni, le ricadute a livello propriamente psicologico e salutare per quanto riguarda questi ragazzi. dati alla mano parlano di depressione, di ansia e addirittura, nei casi più estremi, di autolesionismo. Come si fa ad aiutare le famiglie che vivono questa situazione e che non hanno la capacità e la forza di fronteggiare le problematiche che vivono questi ragazzi? Intanto c'è una sensibilizzazione generale al tema e questo mi sembra già il primo passo importante. Credo un'attenzione da parte delle famiglie e degli insegnanti su questo sia un primo passaggio. Ci sono poi una serie di progetti, mi pare, da parte del Ministero, che tendono a dare supporto psicologico, ad assicurare supporto psicologico laddove è necessario. Quindi attenzione delle famiglie, attenzione del Ministero, attenzione anche dei media su questo, su un problema che è sicuramente un problema che noi dovremmo affrontare, perché è un problema di lungo periodo, che dovrà misurare quelli che sono naturalmente non solo i problemi di perdite di apprendimento, che è il primo problema che viene in mente dopo questo anno di pandemia, ma anche questi che sono i problemi e i danni psicologici che possono derivare a un'intera generazione. D'altra parte c'è anche un progetto da parte del Ministero, cioè quello non tanto di allungare l'anno scolastico, quanto di creare un ponte tra giugno e settembre, ovviamente per creare attività laboratoriali che puntino al recupero di ciò che è stato perso nell'anno precedente. Che cosa ne pensa? Le cose che lei ha detto fotografano una situazione in cui noi ci troviamo di fronte a delle modifiche sostanziali, dei problemi sostanziali, che non avremmo pensato di dover affrontare negli anni passati. La didattica a distanza, come lei sa, era già presente nelle programmazioni del Ministero. Io non posso dimenticare che quando abbiamo affrontato il problema della buona scuola, dei 4 miliardi che sono stati investiti allora sulla scuola, uno era destinato alla digitalizzazione, quindi con una gran parte dedicata all'infrastrutturazione, ma con una parte cospicua dedicata alla didattica a distanza a cui approcciare gli insegnanti. Ora, questo con tutta una serie di azioni molto interessanti anche, comprese le biblioteche virtuali che avrebbero dovuto affiancare le biblioteche scolastiche, quindi l'analogico e il digitale insieme, e quindi tutta una serie già di approcci che si sono poi rivelati urgentissimi nel momento in cui noi abbiamo dovuto affrontarli sotto pandemia. Devo dire che gli insegnanti hanno fatto uno straordinario lavoro, molto faticoso fra l'altro, e sotto la spinta dell'urgenza, quindi con dei comportamenti e con una buona volontà assolutamente incommiabile. Naturalmente con le difficoltà che noi abbiamo in un paese in cui le connessioni non sono garantite in tutto il paese, e quindi con i device che mancavano, quindi con il problema di famiglie, di un gran numero di famiglie che non riuscivano ad assicurare ai figli quelli che erano gli strumenti necessari per connettersi con le scuole. Dagli ultimi dati che Save the Children ha fornito, che hanno penalizzato una parte di paese in maniera molto significativa. Allora è evidente che noi di perdita di apprendimento dobbiamo parlare, è un tema che dobbiamo affrontare, è un tema che io credo dovremmo addirittura monitorare, perché uno dei problemi che noi abbiamo è la mancanza di dati precisi, noi abbiamo bisogno di questi dati, io sono convinta personalmente che l'invalsi sarà in grado di aiutarci da questo punto di vista e che avere i dati corretti è premessa per agire correttamente. Quindi contiamo su questo, credo il Ministro Bianchi si sia già posto il problema, ne ha parlato in più occasioni. Vedremo qual è la proposta che formulerà. Grazie. 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 Grazie.